Volete sapere quali film si stanno producendo a Hollywood? Volete vedere i trailer dell'ultima fatica dei vostri beniamini ed essere sempre informati sul mondo dello spettacolo? Fate come tanti ragazzi, navigate in internet. Sempre più gli appassionati si rivolgono al net per essere più vicini ai loro idoli, per vedere in anteprima le immagini delle pellicole americane. Addirittura, adesso, i film si possono girare con una telecamerina digitale e mostrare a tutto il mondo il proprio prodotto. Un'occasione per chi vuole sfondare, ma non ha modo di contattare produttori e registi. Un'occasione di crescita per i giovani, come ci spiega un esperto del settore. Internet è considerabile un turbo per la comunicazione a tutti i livelli. I giovani avranno semplicemente molte più opportunità di comunicare tra loro e se come la comunicazione è un fattore critico di successo in senso assoluto, la qualità della vita dei giovani migliorerà.